Ci vediamo domani pomeriggio alle 5 al Circolo del Golfo. Sì, certo. Arrivederci. Chi è quell'uomo che è andato via adesso? Non lo so, non l'ho mai visto venire da noi prima d'ora. Ehi, Lottie, chi è quell'uomo? È il mio insegnante di golf. Cosa insegnante di golf? Sì, pensate che soltanto con qualche suo piccolo consiglio sono riuscito a fare un tiro lungo 230 metri, un tiro da campione. Coraggio, vatti. Figlio mio, sei sicuro di voler diventare un giocatore professionista? Sì, mamma. E sarò talmente bravo che vincerò un sacco di soldi e sarò presto ricchissimo. E con quei soldi potrò aiutarti, mamma. E poi anche mandare talpa all'università. E finalmente potremo rimodernare il ristorante. È bello da parte tua. Sì, sei bravo, ragazzo. Dai, non essere sciocco, Joe. Non lo capisci che è soltanto un sogno? Oh, certo, 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 ho capito. Non è un sogno, mamma. Sono certo che il signore con gli occhiali scuri mi ha chiesto di andare da lui perché sa che io posso davvero farcela. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno. Ehi, Lotti, vuoi diventare veramente un giocatore di golf? Come? No, Penny, lui vuole diventare un giocatore professionista. Avete sentito tutti. Potete essere sicuri che alla fine ci riuscirò. Fantastico! Dici sul serio, Lotti. Ho sentito dire che un giocatore professionista quando vince prende un sacco di soldi così può comprarsi una bella macchina. Sì. E può fare anche tanti bei viaggi. Stupendo! Certo, è tutto vero. E potrò farvi anche tanti bei regali. Come regalo vorrei un megacomputer, Lotti. D'accordo, Talpa. Ti comprerò un super megacomputer. Evviva! A me piacerebbe moltissimo viaggiare. E io ti farò fare il giro del mondo. Fantastico! Tu sei matto, ecco la verità. Dimmi, tu cosa vorresti per regalo? E beh, ecco, io vorrei tanto delle bambole. Va bene, d'accordo, sorellina. Riempirò questa stanza con le bambole più belle del mondo. Sei contento? Evviva, Lotti! Evviva! Allora auguriamo uno splendido futuro a Lotti. Per la Lotti, urrà! 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 Grazie, grazie a tutti di cuore. Sono proprio tanto felice. Io non sono un trofeo, eh. Bel tiro! Ciao, Lotti! Oh, signor Gervaso, buongiorno. Buongiorno. Sei cambiato, ragazzo? Se ben ricordo, il golf prima non ti interessava affatto. Ora però voglio imparare, anche soltanto guardando gli altri. Non devi tirare solo di forza, capito? Mi scusi tanto. Hai imparato molte cose, Lotti. A proposito del lavoro che stai cercando, c'è una ditta molto seria che sarebbe disposta a prenderti. No, la prego, signore. Voglio che dimentichi quella storia. Che vuol dire dimentichi? Io la ringrazio per il suo interessamento, ma ho deciso di diventare un giocatore di golf professionista. Cosa? Professionista? Mi prendi in giro? No, 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 no. Sto parlando sul serio invece, glielo assicuro. Forse c'è stato un piccolo errore. Mi hai preso troppo la lettera quando ti ho detto che avevi della stoffa. Oh, non si preoccupi, non me l'ha detto soltanto lei, ma anche quel signore con gli occhiali scuri ha notato il mio talento di giocatore. Che cosa? Anche il signor Kenton? Certo, pensi che mi ha dato appuntamento per oggi pomeriggio al campo di golf. Che cosa? Oh, santo cielo! È bravo come insegnante, ma in realtà non so bene chi sia, chi è? Ma davvero non conosci quell'uomo? Devi sapere che quello è il signor Kenton. Partecipava a tutti i campionati, ma poi si è ritirato per motivi di salute. Un professionista! Un campione! E puoi stare tranquillo che se il grande Kenton ti ha messo gli occhi addosso vuol dire che hai davvero della stoffa. Non avrei mai immaginato che l'uomo con gli occhiali scuri, cioè Kenton, fosse un ex giocatore professionista. Con lui sono sicuro che diventerò bravissimo. Ciao! Ciao, Taki! Ma che cosa fai? Parli da solo, Lotti! Già, e spero che un sogno si realizzi. Lo so, hai incontrato mio padre stamattina. Sì! È una buona proposta di lavoro, vero? Lavoro? Ho lasciato perdere, non mi interessa. Eh? Ma come sarebbe a dire? Voglio diventare un professionista del golf. Cosa? Non sto scherzando, anche tuo padre è d'accordo con me, lo sai, Taki? Papà! Certo, da quando ho saputo che il signor Kenton mi allenerà e un giorno mi vedrai in televisione, diventerò veramente famoso grazie al golf. E tua madre che cosa ne pensa? La mamma non ne vuol sentir parlare, ma non è colpa sua, le donne non capiscono certe cose. Oh, certo, non capiscono. Beh, neanche io capisco. E adesso perché ti stai arrabbiando? Ho voluto solo essere sincero, ecco tutto. Ah sì, ti detesto, non sai quanto. Proprio vero che le donne sono tutte lunatiche. Ben arrivato ragazzo. Salve. Prendi la tua roba e andiamo, vieni con me. Bene. Ma quello non è l'ex campione? Sì, ma è lui. Ti senti pronto per cominciare? Sì, certo. Prendi pure la mazza che preferisci. Sì, subito. Questa è una mazza meravigliosa, sembra quella dei campioni. Vengo subito. Gli farò vedere un bel tiro. Oh, accidenti, pensavo di farcela. Ma cosa sta facendo? Sta tentando di battere a sinistra. Oh, la palla vuola verso destra. È fantastico. Ma certo, ho capito. Batti e fa filare la palla tenendo conto del vento. Bene, adesso tocca a me, sono pronto. Devo lanciare calcolando bene il vento. Farò anch'io come ha fatto lui. Batterò sulla sinistra. Ecco. Oh, stavolta è andata verso sinistra. Eh, batte a destra. La palla vuola a sinistra, non posso crederci. È incredibile. Tocca a te ora. Ora devo fare cinque tiri per una buca a 457 metri. Bene. Ho controllato la direzione del vento. La palla questa volta andrà molto lontana. Farò vedere a Kenton la mia abilità. Ho sbagliato di nuovo, perché? Forse ho usato troppa forza per fare quel colpo. Non capisco. Non sbaglierò il secondo tiri. Oh, oh, chissà se avrà visto. Da, incidenti. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Non sono riuscito a fargli vedere un bel colpo Basta Lotti, andiamocene Sì, ha ragione, tra poco sarà buio E' meglio smettere di continuare domani, eh? Non ho detto questo, sei tu che devi smettere Cosa? Sembra che mi sia sbagliato, purtroppo Accidenti Non ho nessuna voglia di arrendermi Quel signor Kenton, nessuno può giocare bene all'inizio Ma vedrà, adesso glielo faccio vedere io Se ne accorgerà di cosa sono capace Ma che cos'è? Mamma, mamma Lotti, vieni qui Ti stavo aspettando, vieni su e sbrigati Che succede? Perché il ristorante è chiuso, mamma? Perché non riesco mai a parlare con te Quando ci sono clienti nel locale E così sono stata costretta a chiuderlo Ma non c'è bisogno che tu chiudi il ristorante Oh, non preoccuparti di questo, devo parlarti Vieni, su Siediti Voglio parlarti di fronte a tuo padre Certamente ricorderai le sue ultime parole, vero? Lo sai che non potrei dimenticarle neanche se volessi, mamma Lotti, abbi cura dei tuoi fratelli Ora sarai tu il loro padre, non dimenticarlo Sarai tu l'uomo di casa d'ora in poi Dovrai scegliere una strada sicura Altrimenti come potrò giustificare il tuo comportamento agli occhi dei tuoi fratellini? Ma è proprio per loro che lo faccio E anche per te, voglio riuscire a dare un avvenire migliore a tutti voi Ed è per questo che io devo... Allora non vuoi capire? Mamma! Mamma! È giusto che faccia quello che vuole, mamma Lotti ce la farà, ne sono certo Ha ragione lui Oh, figli cari Lotti, è vero che per diventare un giocatore professionista bisogna lavorare solo? Sì E per potersi allenare bene bisogna avere soldi? Sì Prendi questi Eh? Ma... ma che cosa significa? Tieni fratellino, sono i nostri risparmi Vi ringrazio, ma non potrei mai prenderli a tutto ciò che possedete Comunque avete perfettamente ragione Per farcela dovrò lavorare molto Senza tanti allenamenti non sarai un buon giocatore Ce la farò Mamma, vuoi riaprire il ristorante? Sì, tanto abbiamo finito di parlare Mamma, mi dispiace tanto Per convincere la mamma devo avere la fiducia e l'appoggio del signor Kenton Vuoi dire che vorresti lavorare qui? Sì, per favore Beh, in effetti avevo intenzione di prendere uno studente per la stagione estiva appena terminate le scuole Allora prendami, posso lavorare dalla mattina alla sera Beh, mi può essere utile un lavorante per tutto il giorno Però all'inizio la paga sarà molto bassa, sai Allora posso cominciare anche subito Tanto a me i soldi non interessano Cosa dici? Non vuoi essere pagato? Ragazzo mio, non ti capisco In cambio del lavoro mi permetterà di allenarmi Allenarti? Certo, sei un tipo speciale tu Veramente vorrei potermi allenare per riuscire a diventare un grande campione Capisco, però non potrai allenarti quando ci saranno molti clienti Sì, è chiaro Potrai allenarti per mezz'ora dopo la chiusura Tanto per me non c'è nessun problema, sai La ringrazio Lotti, vieni ad aiutarmi, ho bisogno di te per un momento Ehi, le palline non escono Lotti, va a vedere un po' che succede Ho messo la moneta ma non esce niente C'è più lavoro di quanto pensassi Lotti, è ora di chiudere, puoi andare ad allenarti adesso Stavo aspettando proprio questo E quando avrai finito metteremo tutto a posto, d'accordo? Sì Dato che ho solo mezz'ora, devo fare più tiri che posso No Lotti, non farai nessun progresso se continuerai così Ecco, guarda Devi mirare con precisione e tirare Fantastico, lei da giovane è stato un giocatore professionista, non è vero? No, no, assolutamente Benché mi avessero detto che avevo delle ottime qualità per diventarmi Allora perché non ha continuato se aveva delle possibilità? Non si diventa professionisti solo con le qualità C'era un giocatore molto più bravo di me eppure non c'è riuscito, sai Lotti? Conosco molta gente che ha fatto la stessa fine E se qualcuno diventa un professionista, non è detto che diventi anche un campione Una volta ho pensato seriamente di percorrere questa strada Ma sono contento di non averlo fatto Quando si è giovane non si pensa mai al futuro Allora non vuoi capire? Ecco, mi sono tornato Ciao, caro Ciao, Lotti, come stai? Molto bene, grazie, Matti Mamma, posso aiutarti? Non ce n'è bisogno, vai pure a cena, ti ho preparato tutto di là Mamma Sì, cosa c'è? Avevi ragione, forse farei meglio a, beh sì, a lasciar perdere il golf Che cosa hai detto? Ehi, è la mia carne, il mio contorno Ho da fare ora, Marty, per favore, fai da solo, ok? Lotti, io non so proprio cosa pensare Perché vedi, io credevo che tu avessi una grande passione per quello sport Ma sono costretta ad ammettere di essermi sbagliata Non capisci che così non solo non diventerai un professionista Ma non riuscirai nemmeno a trovare un buon lavoro Mamma, tu vuoi dire che mi daresti il permesso di giocare? Sei senza speranza, non sai neanche tu quello che vuoi Mamma, ci proverò, te lo prometto E ce la farò perché adesso stai dalla mia parte Ehi, Lotti, basta per stasera, si chiude Oh, è lei Se non hai nulla in contrario mi fermo soltanto per una mezz'ora No, no, certo che no, signor Kenton Ehi, Lotti, senti! No, non lo chiamare Voglio vedere come se la cava Eh? No, ancora non va Signor Kenton, come sapeva che ero qui? Sono passato prima da casa tua Eh? Da casa mia? Mi ha chiamato tua madre e mi ha detto di prendermi cura di te Ecco perché sono venuto Mia madre le ha chiesto... Lotti, devi darmi ascolto, chiaro? Sì Il mio allenamento sarà durissimo Sì, lo so C'è in gioco la mia reputazione Farò di tutto per non deluderla, signor Allora cominciamo, datti da fare, va Sì Ah, niente male, vero? È un disastro Devo assolutamente migliorare Come avrete capito La mazza da golf è quel bastone col quale si colpisce la pallina Dovete sapere che ci sono principalmente due tipi di mazze Quelle con la testa di legno che si chiamano comunemente legni E quelle con la testa di metallo che si chiamano ferri E poi c'è il patter I legni servono per lanciare a grandi distanze E sono numerati dall'uno al nove Il numero uno è quello che lancia più lontano di tutti E si usa di solito per il primo colpo I ferri sono anche numerati dall'uno al nove E servono soprattutto per controllare la precisione del tiro Infine c'è una mazza speciale che si chiama patter Ed è quella che viene usata solo sul green Per far rotolare la pallina fino alla buca È quella più importante perché è il patter Che alla fine determina una vittoria o una sconfitta Ciao ragazzi, a presto